Chi vede oggi la situazione potrebbe non avere presente il percorso attraverso il quale noi siamo arrivati oggi. L'ufficio emigrazione di Via Cagna, Milano, al centro di cronache polemiche per le file, le tensioni che si creano la domenica notte e lunedì mattina con centinaia di persone che si accalcano per entrare e chiedere asilo politico, viene aperto un anno e mezzo fa, si aggiunge a un altro ufficio già operativo e dedicato a chi si presenta spontaneamente senza una prenotazione, uomini, donne e bambini che arrivano a Milano da ogni dove spesso accampati per giorni. Noi mentre prima trattavamo più di 3.000 pratiche noi abbiamo rilasciato più, quasi 6.800 permessi per protezione internazionale. Numeri cresciuti esponenzialmente, difficili da gestire, lunedì sono state fatte entrare 300 persone che all'interno vengono accolte da associazioni del terzo settore, protezione civile, mediatori culturali, priorità alle fasce più deboli. Tutte le fragilità cerchiamo di individuarle tempestivamente per poter dedicare a loro un canale di particolare attenzione. Rimane indiscutibilmente un numero di accessi enorme. Noi siamo anche riusciti ad aumentare alla massima capacità di espansione la nostra risposta sul piano amministrativo oltre la quale obiettivamente, stante le attuali risorse, noi non riusciamo ad andare. Un modello che cerchiamo costantemente di adattare e migliorare, dice il questore, a questo scopo saranno investiti, ha comunicato la prefettura, 400.000 euro.